e buonasera e bentrovati a tutti in questa Villegis Late Night grazie per essere con noi ancora una volta al mio fianco l'unico l'irreprensibile l'intramontabile l'irriverente Andy Baldacci buonasera a tutti grazie Danilo nella sempre splendida presentazione ci siamo ci vediamo dopo un live scoppiettante quindi siamo molto molto contenti di stare qui e fare una chiacchiera con voi un intensissimo live aspettiamo un pochino prima di buttarci nella nostra timeline dei discorsi per far arrivare un po' di persone anche perché stasera affronteremo un sacco di discorsi belli e spinosi sì 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 questa diciamo è piena di emozioni forti secondo me sarà io te lo dico subito stasera non avrò peli sulla lingua peggio del solito ecco stiamo a posto le denunce vanno tutte a Andy Baldacci i bippo saranno inesistenti come sempre perché sei un cane a briglia sciolta però a parte questo anche tante buone buoni pensieri buoni propositi e tutto questo poi vedo un sacco di foto di gente l'ultima carrellata di foto ha praticamente cambiato le foto profilo di quasi tutti sì sì almeno della metà dei partecipanti a questo live assolutamente quindi ho visto una marea di foto bellissime e di persone che hanno si sono riuscite a ritrovare in super super foto veramente bello bello e ringrazio con l'occasione subito a bruciapelo tutti i fotografi Giulio e Valentina in primis e anche dei nuovi fotografi che si sono affiancati per la prima volta che come sempre hanno tirato fuori il meglio di noi il meglio di noi bellissimi momenti tutti che spingono sugli aneddoti del Baldacci ci saranno gli aneddoti del Baldacci ci saranno perché io non posso fare niente per evitarlo dategli il tempo adesso fatelo sfogare un po' libero che sennò se cominciamo gli aneddoti adesso finiamo dopo domani sera già mi hanno detto che devo tagliare mi devo tagliare sennò finiamo domani mattina esatto da un po' di video che ho fatto alcuni alcuni video purtroppo non sono ancora mi devo impratichere bene con il mezzo meccanico però ti ho visto smanettare col drone come un pazzo lo buttavo su poi c'era la battaglia lo lanciavo in mano a qualcuno a caso e quindi è uscito qualcosina di decente ma mi devo impratichere meglio prossimo giro è sempre un migliorarsi ogni volta è uno strumento non semplicissimo con la GoPro e mi sono visto un sacco di riprese i reality show i reality show non tutte utilizzabili per i video perché mi muovevo tanto con la testa e quindi non sono proprio il top per un video promo però hanno fatto vedere delle cose spettacolari immagino perché in prima linea si vedono delle cose più incredibili spettacolari ce n'è una che mi sono inchiappettato uno e quello prima ha provato a di due cazzati poi ha alzato gli occhi e ha fatto no 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 scusa c'è ragione e ha fatto eccolo sta tutto qui la var comunque belle quelle continuerò a farle perché sono un bel un bel archivio storico ci aiutano anche in alcuni casi a vedere in alcune situazioni no ma anche ti danno la misura un po' di quello che succede che magari sul momento non riesci a cogliere tutto poi quando te lo riguardi hai la possibilità di mettere in pausa andare indietro vedere meglio la faccia di quello lì vedere l'altro l'urlo di quello lì perché sta urlando e di che si sta lamentando diventa tutto più dettagliato in alcuni casi ti dirò che ho messo anche proprio il rallenty l'ho messo a 0,5 mi sono goduto proprio il movimento per vedere cosa succedeva siamo già saliti alle 60ia di persone io vedi i cerusici che sono preoccupati del drone ma il drone sta a 7-8 metri da terra poi ovviamente non essendo pratico io ho preso un drone che fa tutto da solo non può accadere se gli si scarica la batteria torna a casa da solo e a terra da solo per terra proprio il top è quello che ho preso super leggero e comodo proprio per chi non è bravissimo come me ma ci sta ci sta qualcuno richiede dei video lo so purtroppo io non riesco a capire i nick a chi sono grazie avete dei nick che rendono molto complessi molto 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 complesso quindi cercate di farvi riconoscere diteci dei nomi per esempio un video dove si vedono stralci di Cristiano di Gregoria che da comandante non in battaglia strillava ai suoi come in ossesso per spostarli da una parte all'altra della linea troppo bello troppo troppo bello il VAR non perdona il VAR non perdona mai non perdona in maniera proprio imbarazzante io vi faccio uno spoiler ragazzi secondo me stasera Baldacci non perdona io ci ho parlato prima nel dietro le quinte e vi posso dire che non ci sarà catena che possa tenere stasera Baldacci non perdona quindi state pronti siate consapevoli di cosa accadrà questa sera a tal proposito Andrea dato sì che insomma siamo una sessantina io comincerei con i primi argomenti un po' più light morbidi più morbidi che dici? sì 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 assolutamente vogliamo parlare delle azioni notturne le azioni notturne che cosa cosa intendiamo parlando di azioni notturne? allora intanto una premessa che questo evento Danilo penso e poi ne abbiamo già parlato è stato veramente ma veramente bello in tutto quello che riguarda il gioco e dopo capirete perché sottolineo il gioco nel senso che le macro trame sono andate avanti benissimo e le piccole missioni sono state fatte tutte e le nuove dinamiche dei demiuridi sono state abbracciate tantissimo e quindi abbiamo visto dei movimenti giornalieri molto molto più ampi e più numerosi di quelli che c'erano stati negli ultimi eventi e di questo siamo contenti perché vuol dire che gli abbiamo lanciato un amo e è piaciuto e l'avete abbracciato bene quindi di questo siamo molto molto contenti idem la notte quest'evento abbiamo scelto di fare delle dinamiche notturne un po' diverse dal solito e sia per le dinamiche proprio fatte di notte sia per una una nuova chiamata della rovina che ha avuto un infine alla fine dell'evento sicuramente un esito positivo abbiamo tanti feedback tante cose da migliorare però sicuramente sia chi ha fatto la chiamata della rovina chi ha fatto la progene è stata molto molto brava ovviamente dovete sempre capire che chi fa queste cose per la prima volta magari non è un compito facile in quanto di notte ogni giocatore diventa più difficile più duro si vede poco quindi bisogna avere un po' di pazienza noi ne abbiamo tantissima guardando guardandovi di giorno e di notte se magari ogni tanto un pizzico di pazienza in più da parte vostra quando vi trovate in una dinamica nuova una persona che sapete che sta facendo un ruolo che magari non ha mai fatto sarebbe bello però comunque anche lì si è mosso tanto sabato sera le entrate nella terra della rovina sono state fantastiche delle scene epiche da film gente che dentro strillava cercando chiamando gli amici per farsi salvare gente fuori che gli faceva il gesto dell'ombrello manco se manco se mi paghi torno là dentro cioè scene epiche l'hanno tirati fuori alcuni sono rimasti dentro comunque belle belle scene e quante lacrime e cioè è stato è stato intenso comunque perché sicuramente la dinamica della morte ultima dei dungeon ha creato un sacco di bel gioco sì sì anche un po' di tensione che si era un po' persa anche la tensione anche la tensione che si era un po' persa negli anni perché era possiamo dirlo eravamo un po' buoni la morte ultima era veramente una cosa che era rarissima spesso a volte scelta proprio dalla persona e mentre ora questo questo brio ha fatto fare un sacco di belle giocate e ha creato tante belle giocate anche dopo sì quindi secondo me ma questo lo dico perché una marea di messaggi dei giocatori che mi hanno mandato dopo l'evento hanno sottolineato questa cosa e tu guarda fichissimo perché questa volta più di ogni altra volta c'era proprio la paura della morte che rendeva tutto più bello è ovvio come si dice l'ultimo pasto per condannata a morte è il più buono del mondo perché è ovvio e quindi di notte sicuramente tante cose positive l'unica favore che chiediamo a chi combatte Nexus chiamati della rovina o progene e in alcuni casi di avere un pizzico di pazienza perché se chi sta da una parte può sbagliare anche noi dall'altra parte possiamo sbagliare a volte anche portati dal fatto che siete tanti contro pochi quindi se qualcuno fa una piccola cazzata non lo mettete subito alla cogna perché cercate di mettere di fare quello che a volte facciamo noi ci chiudiamo un occhio e vi diciamo piano o attento perché spesso ce lo chiudete voi l'occhio piccolo aneddoto questo evento le battaglie sono andate molto molto bene molto tranquille cose varie ma era un po' di tempo che in maglietta rossa non piavo così tante botte Dani in una battaglia mi hanno dato due spadate in testa dirette dove precederi tu il bersaglio dirette che tanto gli ho fatto oh ma hai visto che c'è la maglietta rossa guarda che mica è notte e quello mi ha detto scusa non ti avevo visto ha visto una testa e lui l'ha colpita e l'ha presa mentre in un'altra battaglia con una picca alla settantacinquesima piccata tra il ginocchio e le palle e gli ho detto guarda che non gli ammazzerai mai davanti quelli tuoi perché stai metà seppia solo a me cioè mi hai distrutto ma mi ha detto ah quindi era tua quella gamba sì era mia ma te l'ho pure detto ahia mi stai fa male sono io quindi insomma molto qua a me mi ha darito perché comunque non so le botte mi ha darito a vedere la faccia della gente quando fa cose senza proprio senza rendersene conto che me ne ha in testa uno con una maglietta rossa in mezzo alla campane c'è un impegno sì c'è nel senso te ne accorgi poi è sempre lo stesso uno non è che uno è una faccia nota il buon Valdacci poi per concludere un po' questa parte ci chiedono se il momento domande è sempre aperto sempre aperto sempre aperto noi siamo per la filosofia della open door tutti proprio perché hai fatto questa domanda e le file 03 che ovviamente non so chi sei e ora siamo 73 ma questa cosa la ripeterò ti dico subito una cosa entro un po' a gamba tesa perché la domanda mi piace l'avevo capito per questo te l'ho letta subito entro a gamba tesa noi da subito dopo l'evento ad oggi abbiamo letto un sacco di post post e commenti su facebook vi dico la verità alcuni erano imbarazzanti ma imbarazzanti in maniera negativa ma non perché sottoponevano una critica a noi assolutamente benvengano spesso una maniera di gente me le manda dirette benvengono ma erano imbarazzanti per il modo e per le domande e per come veniva risposta agli stessi giocatori che gli spiegavano ma che cazzo stai a dire vi dico la verità io pensando a questa serata ogni volta che vedevo questi post me li sono scrisciottati perché mi piaceva anche ricordarmi il nome della persona ora sono sincero mi hanno convinto a evitare di fare la la chiamata dei nomi perché dicono che non è bello sarebbe troppo però io pubblicamente invito tutti quelli che vogliono parlare che si sentono pieni di idee e pieni del fatto che noi non ci capiamo un cazzo del gioco di ruolo al vivo e loro hanno delle verità divine di contattarsi così vengono online alla prossima live a me farebbe piacerissimo poter parlare face to face guardandole queste persone non è proprio face to face perché è online però ci siamo capiti meglio 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 non la portata di braccio qualche chilometro di distanza potrebbe salvaguardare un sacco di cose non la portata di braccio però vediamo ne parliamo così non rimane soltanto un messaggio lanciato in un gruppo dove poi è facile fare casino messaggi che poi si parte dall'argomento si fa finire si fa finire un altro cose proprio midi e leggende midi e leggende ce l'abbiamo poi ne parleremo parleremo anche di midi e leggende io nel frattempo volevo ringraziare Basilil per i tre mesi di Prime grazie per essere iscritta grazie caro e insomma si ragazzi ve l'ho detto io questa sera non ce la faccio a tenere Andy perché ci sono effettivamente delle questioni strettamente legate a cose che abbiamo letto cose che abbiamo sentito in prima persona che opinabili possiamo dirlo opinabili Andrea opinabili opinabili diciamo che opinabili è una bella parola per esempio Viridis Drago fa una domanda sono imprimissioni sistemazione i-gate a livello sicurezza aspetto illuminazione guarda si aggiungerei come sempre perché noi noi non ci piace quando lavoriamo evidenziare quello che stiamo facendo molti atti lo fanno sui social va molto mentre io sto lavorando per far vedere cosa faccio metto 700 reel di io che avvito io che pitturo io che faccio noi non lo facciamo non l'abbiamo mai fatto questo non vuol dire che però non facciamo nulla anzi potremmo fare un lunghissimo elenco di cose che vengono fatte in ogni evento ce ne sono altre da fare è certo ce ne sono una marea abbiamo 40 ettari da gestire non so quante strutture quanti pali di legno viti e cose varie quindi si c'è sempre da fare ogni volta miglioriamo qualcosa dopo il covid ci siamo fortemente dedicati alla parte out game che è stata un pezzo all'asse economico penso che però i famosi bagni in ceramica sono piaciuti a tutti o meglio ci avete detto molte volte che questa cosa è piaciuta però è ovvio che tutto non si può fare anzi aggiungo e ragazzi io vi chiedo scusa se stasera non avrò proprio peli sulla lingua e vi dico anche che mi fa proprio piacere se qualcuno in chat mi dice ma che cazzo stai di e la pensa diversa oh uno che tira fuori il nome viene qua e mi dice che ci ho torto ragazzi noi possiamo fare un sacco di cose ma ricordiamoci che il nostro evento il più grosso italiano il quarto europeo è l'evento con il costo più basso di tutta Europa più basso di tutta Europa di 5 euro no in alcuni versi del 50% quindi quando chiedete pensate fate pensate anche a ciò che viene dato se io vado in un hotel a 5 stelle io mi aspetto anche che c'è la il bidet che con la spugnetta mi volisce ma pago un tot se vado a 3 stelle c'ho altro non posso pretendere a prescindere da quello che pago scusa Danilo so so sparare proprio a zero ragazzi purtroppo ve lo dico in maniera come mi viene mi sono parotti i coglioni di sentire le cazzate che vengono dette e quindi non l'ho ancora fatto ma ho i nomi segnati e cercherò di parlarne a uno a uno anche perché di mille persone purtroppo mille mille e trecento quasi di questo evento io ho ricevuto un sacco di bellissimi messaggi purtroppo però i bei messaggi vengono scritti più in privato che pubblici mentre i messaggi rompicoglioni a volte assurdi vengono messi pubblici perché fanno un sacco di like e quindi scrivete scrivete tutto quello che volete ok ma sappiate che lo leggiamo non siamo scemi e se non rispondiamo pubblicamente è soltanto perché sarebbe brutto andare a fare una discussione su una chatta su una chatta di facebook ma poi non funziona bene quando ci si lamenta quando si vuole portare avanti il proprio punto di vista e si pensa di avere un merito delle ragioni bisogna articolare bisogna articolare quando c'è la possibilità di un dibattito di un di una controparte perché se tu scrivi e poi sparisce non va bene cioè deve essere puntuale poi se c'è una critica io penso che anche questa è una cosa che può fare può dare un po' di fastidio puoi irritare il fatto che quando la critica non è puntuale perché è lanciata in maniera molto vaga e molto generica tra sentito dire e cose del genere è difficile ribattere invece bisogna essere puntuale si vuole fare una critica giusto venite venite a fare la critica puntualmente dite punto per punto e poi si può ribattere punto per punto per esempio sempre Draco sottopone un'altra un'altra questione l'abbiamo già spiegata ma la rispiego molto volentieri ragazzi io sono felicissimo di spiegarvi perché noi prendiamo alcune scelte perché col fatto che non le prendiamo a cazzo di cane ma ci pensiamo e non vuol dire che sono tutte giuste però almeno ci abbiamo pensato abbiamo una teoria dietro per esempio ci pone la domanda sulle bende blu che sono state tolte perché sono state tolte vi rispondo come ho risposto ad alcune persone che in questo evento mi hanno detto ma io ho un problema mi posso mettere la benda blu e si purtroppo mi hai detto il nome del gruppo ma io ho grandissime difficoltà con i nomi con i visi no mi ricordo tutti ma con i nomi ho proprio difficoltà perché ti chiedo scusa e poi ti cerco magari nel senso ti chiedo scusa non mi ricordo il viso il problema della benda blu qual è uno che veniva usata male usata per chi si era spellato l'unghia o per chi non gli andava di essere offeso prima cosa ma non è quella importante la cosa più importante che ci siamo resi conto che per le dinamiche del nostro evento purtroppo chi indossava la benda blu pensava di essere protetto da uno scudo atomico tipo la protezione di mazinga la realtà è che non la possiamo assicurare a nessuno questa cosa e purtroppo spesso e volentieri quando vi sentite non voi in generale quando una persona si sente sicura e protetta non attiva i campanelli per la propria persona e questo è sbagliato perché purtroppo la benda blu non è una benda fluorescente non è una benda che vi gira attorno non è una barriera energetica ragazzi attorno a volte potrebbe non vedersi se tu sei girata e ce l'hai su un braccio o ce l'hai nascosta da un pezzo non si vede e purtroppo in alcuni casi abbiamo visto persone che erano nel posto sbagliato al momento sbagliato pensando di essere sicure con la benda blu no non è possibile se tu hai un problema devi essere tu a porti in 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 condizioni di non essere a rischio se cammini di notte appena senti mezzo passo devi gridare oh io non voglio combattere venite sono morto vi do tutto quello che ho non è che sono fuori gioco vi do tutto quello che ho ma sono morto non mi amenate in campale non vado dietro la prima linea a curare uno con la benda blu ok perché la benda blu purtroppo non è come ha detto Danilo non è lo schermo che vi protegge invalicabile purtroppo no non non si può fare ragazzi fisicamente non si può fare quindi l'abbiamo tolto perché poteva creare delle false aspettative un senso di sicurezza non reale non reale che è pericoloso è peggio è pericoloso ok eh oltretutto eh colgo questa occasione della benda blu per un attimo cambiare focus e eh l'altro giorno chiacchieravo con delle persone in fiera stavo all'utica e persone non che non giocano si sono avvicinate gente adulta che chiedeva informazioni raccontava e abbiamo gli raccontavo un po' che tutti abbiamo tante persone di tutti i tipi di tutta l'età e e quest'anno eh prossimamente l'ho invitata Danilo aspetta a fare i nomi sempre perché ha evito i nomi ma una ragazza che eh spero che prima o poi venga online da noi eh perché avendo anche tanti problemi è riuscita a farsi tutta l'evento è stata contentissima eh per lei inostimamente sono un un proprio una luce un momento di svago di socialità e cose varie e e non penso che sia l'unico al meglio lo lo so per certo però con lei ci ho parlato un po' di più tanto che gli ho chiesto se voleva partecipare a qualche a venirci a fare un saluto per portare la tua esperienza perché è sicuramente un'esperienza forte per lei non è facile stare cinque giorni a Villegis ma lo fa pensa a lamentarsi per godersi qualcosa per lei unico quindi sono certo che se mi ascolta sa di chi parlo e quindi ti ringrazio perché la tua presenza ci fa molto piacere ok abbiamo ammorbidito per dieci secondi il buon baldacci ma io passerei al punto numero due che è un punto abbastanza importante e abbastanza duretto diciamo che è la questione parcheggi che essendo una questione strettamente fuori gioco e che non ha niente a che vedere con il gioco è una questione che fa particolarmente sensibilizzare l'irritazione di baldacci guardate la faccia quando comincia a non vedersi più le labbra è finita ragazzi vedi sono andato morbido ora risaliamo subito eh lo so ai vertici perché calcolate che quando io leggevo i vostri commenti sui parcheggi sulle macchine sulle tende pensavo che avevate proprio ragione cioè ho detto guarda vedi hanno proprio ragione e purtroppo abbiamo provato a essere più buoni più tranquilli più morbidi su tante cose non ha avuto l'effetto sperato dopo dopo il covid su alcune cose siamo stati più morbidi su diverse cose e stasera ne nomino tutte siamo stati più morbidi abbiamo tollerato qualcosa in più però purtroppo non è stato non è andato come speravamo speravamo che eh le persone a prendessero capissero e gioissero delle cose senza approfittarne non è stato così faccio un esempio che è più eclatante i parcheggi ragazzi siete stati generalizzo ma io so che tantissime persone sono state perfette perfette io vi dico che l'altro giorno ho parlato con una persona di Devoras che lui andando muovendosi tutto il giorno aveva parcheggiato la macchina dietro dietro Brandis per non dare fastidio a nessuno e lui tutti i giorni faceva avanti e indietro ce ne sanno altri come lui? sicuramente sì ma tanti altri hanno fatto proprio lo schifo 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 e quando l'ho detto molte persone si sono lamentate della non chiarezza delle nostre indicazioni beh diciamo che la guidaevento era abbastanza chiara però sappiamo che la gente legge poco molto poco molto poco e lo so ma la faremo in video faremo in video o in messaggio vocale la guidaevento la prossima volta magari ci potrebbe essere stata una frase della persona alla porta che non è stata maniacalmente perfetta sì penso che sono il primo a sbagliare nelle cose quindi penso che una persona che sta H24 a rispondere a domande a fare a dire potrebbe essere uscita qualche frase non perfetta ma la mia domanda è ma tu che parcheggi davanti ai Sebbac che quasi non si poteva aprire la porta o che parcheggi appiccicata al container dove dobbiamo caricare l'acqua ma che cazzo ti dice la testa ma non è uno non so due tutti mi hanno risposto eh c'era qualcun altro e quindi e in questo momento io ho letto questo post e e mi sono date un sacco di colpe proprio io personali perché sono sono quello che sempre quando poi parliamo di questi argomenti cerco cerco di essere un po' più morbido tra di noi cerco di non essere così cattivo vabbè dai mu mu le levano mu le espostano dai non è così messa male ho sbagliato scusate chiedo ufficialmente scusa dal prossimo evento le indicazioni saranno perfette e le sanzioni saranno altrettanto perfette mi spiego meglio qualsiasi macchina che sarà trovata fuori posto con la targa mi sto informando per un bel programma a pagamento della motorizzazione ok o prenderemo la targa di ogni macchina che entra hai parcheggiato male io neanche ti vengo a cercare prendo la targa prendo il nome e la scheda la porto a zero ti levo tutte le abilità ti lascio solo la possibilità di camminare poi ti vengo a cercare per dirti ecco ora tu puoi camminare a Villegis e parlare le altre abilità le abbiamo tolte tutte non mi arrabbio non faccio eh non perché poi quando cerco di indurvi sulla retta via sicuramente dicendo qualche parola fuori posto nascono anche i miti e le leggende da noi capito eh sì ne faccio uno per esempio quando la sera sono andato io ho fatto il giro di Gregoria Bassago e Devoras per dirgli ragazzi ci sono macchine ovunque davanti ai bagni davanti dovete allevare le macchine dovete metterle ai parcheggi o uno o due e tutti sono rimasti un po' allarmati mi dico ma serve guardate serve perché se non lo fate la minaccia serve la minaccia a me non mi piace a me mi piace fare le promesse non le minacce guarda che se non lo fate non potremmo caricare l'acqua abbiamo difficoltà a caricare l'acqua ovviamente quando sentono a qualcuno ho anche detto che se trovavo le macchine messe male le attaccavo a tre a tre col defender e tiravo sai il gioco delle palline si si è simpatico raga io penso che qualcuno mi ha visto trascinare macchine per diversi centinaia di metri però sto cercando di sedare questo mio istinto fuori abbiamo qualcuno che non è d'accordo ok qual è ci dicono che sebbene lui vabbè ovviamente sia uno di quelli che parcheggiava giusto secondo loro questa cosa è la sanzione è snaga secondo loro la sanzione è eccessiva eccessiva la sanzione è eccessiva la sanzione è diretta bisogna essere più civili io sono della tua filosofia Andrea però il mio è un punto di vista ovviamente aspetta aspetta scusa non aspetta lui dice che è troppa la sanzione sì prima meglio parlare prima fare l'ammunizione è finito le parole le parole sono finite perché sono eventi che abbiamo questi problemi e sono eventi che perdiamo ore a cercare le macchine messe male e quindi basta non ho parlato una volta due volte tre volte quattro volte non mi è stato risposto male una volta due volte tre volte quattro volte non sono costretto a leggere i commenti della gente che se lamenta delle macchine messe male quando magari l'ha messa l'amico suo basta quindi è facilissimo non vuoi il banish parcheggio parcheggiala bene o è proprio facile eh non è che è un plot difficile eh non serve un'abilità supreme la metti un po' più là un po' più là facilissimo facilissimo quindi ti ringrazio della tua opinione ma non sono d'accordo su alcune cose la linea della parola è finita ma questo perché me l'avete detto voi eh i vostri commenti mi hanno fatto capire quanto ho sbagliato a essere morbido e quindi saremo meno morbidi eh cioè se oltre a essere morbido mi devo incazzare per farvi rispostare e poi vengo pure cazziato dai giocatori perché sono morbido mi sento un po' coglione non mi piace e quindi applichiamo un'altra formula faccio un esempio vi ricordate tanti anni fa che chi non faceva la registrazione pagava 20 euro di penale l'abbiamo tolta perché siamo tutti più grandi tutti più maturi e cose varie no non si può fare a giugno c'era una valanga di persone arrivata senza registrazione una valanga ragazzi per noi è un problema enorme quando arrivate senza registrazione perché dobbiamo fare tutto quello che noi di solito facciamo nei giorni prima comunicazioni all'ente dobbiamo farlo lì in quel momento cioè mentre io sto a pensare alla battaglia al nexus devo pure fare quello perché perché non hai speso due minuti a fare la registrazione e io te li sanziono siamo cattivi no no non penso proprio su questo di essere cattivo spero di non arrivare mai a quel livello siamo siamo ci stiamo tutelando è un deterrente faccio un esempio in fiera a Viterbo c'era una bella promozione sono venute tante persone io a tutte a tutte face to face gli ho detto oh leggete quello che c'è scritto e dite agli amici a tutti quanti dite a tutti di fare registrazione entro due giorni oggi oggi sono passati più di due giorni la domenica due il 10% di quelle persone non ha fatto registrazione io non per me è una cosa incomprensibile incomprensibile però io più di questo più di questi piccoli deterrenti non vorrei fare spero di arrivare all'evento che questi piccoli deterrenti siano stati sufficienti Dani vedo che scrivono ma intanto volevo dire un'altra cosa quando sempre online leggo la mentele sul fatto che le macchine passano di giorno di notte in mezzo alle tende facendo polvere ad alta velocità è il motivo perché noi diciamo che le persone che si devono muovere durante l'evento devono andare a parcheggiare al parcheggio verso il cancello sapete mi imballa una marea dei cazzate tra crisi mediche urgenze gatto gatto con la polmonite allergico ai gatti per dirmi che devono parcheggiare dall'altra parte anche questo sarà tagliato dovete muovervi parcheggiate solo al parcheggio dove vi potete muovere perché perché siete così incivili da passare a fianco alle tende dei vostri amici correndo o con i fari spianati in piana ma quante quante macchine avete visto attraversare la piana e me come uno scemo correre dietro purtroppo questo evento è andato tanto bene in gioco con enormi soddisfazioni tanto non bene fuori gioco fortunatamente la parte fuori gioco è più facile ritorniamo a delle dei forti come le hai chiamate prima Danì? incentivi sì sono dei forti incentivi sì quindi questo era il discorso parcheggio allora sì io ci volevo tornare dopo Andrea volevo fare un attimo perché perché sennò poi diventa parliamo un attimo anche visto che tanto poi parleremo di media leggende che chiuderà assieme ai servizi acqua tutta la questione della logistica e di come non è andato bene fuori dal gioco parliamo anche di quello che sta per succedere avverrà a brevissimo dal punto di vista del gioco ci sarà a breve il rilascio del regolamento in versione 3.2 quindi quello definitivo in cui verrà integrata la questione del battle exhaustion all'interno del regolamento che era solo sulla guida evento l'ultimo l'ultimo evento ci sono tutta una serie di cose che verranno modificate sistemate migliorate specificate meglio chiarite ma c'è un nello specifico c'è uno degli argomenti che andrà visionato con un con un occhio molto attento e ci sarà una fortissima stretta sulla questione che è l'argomento erboristeria come facilmente si poteva intuire dal fatto che fosse uno degli argomenti presenti nella scaletta della serata Andrea vuoi andare a parlare anche un po' fra l'altro avremo persino un supporto dalla regia a un certo punto una fortissima foto che soltanto gli stomaci più duri potranno vedere allora quest'anno abbiamo avuto in gioco più di cento orti più di cento orti e li abbiamo fatti passare tutti erano tutti giusti no assolutamente ma volevamo testare noi volevamo testarci volevamo testare se pur avendo una grossa quantità di orti le dinamiche di gioco di logistica cose varie potevano andare bene e abbiamo visto che possiamo reggere anche un numero grosso di orti e questo non vuol dire che è capitato guarda vi siete scortati il mio orto può capitare soprattutto se magari se sulla cartina non era ben segnato però facciamo minuti non è quello il problema il problema che e questo voglio dire in maniera molto chiara abbiamo accettato tutti ma non tutti erano da accettare quindi da settembre rileggetevi bene le poche righe che vi fanno capire cos'è un orto faccio un esempio due piantine messe per terra con quattro sassi lanciati non sono un orto e la cassetta quella di plastica con un po' di juta e sei piantine dentro con scritto un nome in cerillico non è un orto è una cassetta con un po' di piantine non vogliamo e non solo questi sono gli orti personali dell'erborista ma ci sono anche gli orti comunitari l'orto d'accademia l'orto di casata a cui in cui si può contribuire se la regia volesse essere così cortese dal fornirci il supporto fotografico secondo qualcuno questo quello che vedete letteralmente un cactus con un bastoncino è un contributo all'orto secondo qualcuno secondo noi no no non è non è questo che noi intendiamo come contributo altra cosa importante spesso e volentieri quando ci troviamo a parlare con gli erboristi mi fanno l'elenco della spesa di quanto hanno speso per fare il loro orto vi dirò una cosa chiara non me ne frega nulla di quanto spendete in tutto il nostro gioco non conta quanto spendi perché se no quello che sta in campale con un'armatura da più di 1000 euro dovrebbe vincere sempre secondo questa logica invece no magari è primo scemo che gli fanno slip e muore in prima linea dopo 8 secondi e c'è un'armatura da 1000 euro quindi che tu hai speso 20 euro per le piantine e ti lamenti perché non sei stato considerato come vorresti 20 o 30 non mi interessa purtroppo è il principio sbagliato ragazzi è la strada che può portare l'erboristeria a essere drasticamente tagliata vogliamo questo no ci stiamo provando in tutti i modi a non tagliarla vi prego aiutateci aiutateci a non doverla tagliare per evitare le discussioni perché di stare a discutere ore con chi ha messo tre piantine e pensa che ha fatto l'opera una nuova installazione di arte moderna proprio ci siamo stancati sono anni di succede cioè adesso sto vedendo in chat la questione non è se quello specifico è così perché quello è un esempio tra moltissimi dei cento orti o più delle tantissime contribuzioni agli orti di casata e all'orto di accademia molti erano sulla falsa riga di questo quindi è generico il discorso si applica a tante cose non ci soffermiamo sul cactus ok perché non è l'unica cosa che che ci ha fatto sorridere però vi volevo dire che dovete fare non tutti perché ci sono tanti orti molto belli comunque gente che li fa da anni e quindi comunque sono molto belli ma comunque abbiamo conferma da chi ha fatto la valutazione degli orti che è stato messo dopo quindi anche quel plot twist non è vero quindi è proprio un simpatico contributo un simpatico contributo a noi piacciono i contributi così naturalmente anche quello che diceva Andrea vuole essere una un invito generico perché immagino che a tutti piaccia l'erboristeria che con l'orto che genera risorse da poter utilizzare in gioco però è chiaro che se questa cosa deve andare a diventare una buffonata a un certo punto penseremo a un sistema di erboristeria molto diverso tagliando completamente la questione di orti giusto? se vi riguardate le varie live è un po' che vi stiamo dicendo stiamo cercando una quadra tra discussioni problematiche per mantenere questi orti ci stiamo veramente provando ma non è assolutamente facile perché tra i cactus e le discussioni inutili a volte è difficile fra l'altro c'è anche un giveaway ragazzi di cui abbiamo praticamente citato tutto e il giveaway è un bel ingresso a Age of Guardians di settembre quindi a un certo punto grazie ai potenti mezzi della nostra regia faremo partire le telefonate le cosiddette telefonate e se qualcuno vuole partecipare dovrà scrivere al solito le parole magiche che la regia definirà a breve quindi state belli cari con le ditina veloci veloci sul si vince un cactus no non si vince però vi possiamo garantire che se vi fate un giro sulla piana un cactus lo trovate ve lo potete portare via perché avete un biglietto gratis è sicuro per esempio Dani scusami se io ritorno a bomba perché stasera c'è arrivato ce n'avevo un po' da in tasca abbiamo anche letto una lunga discussione su facebook sulle accademie le abilità d'accademia perché dobbiamo andare in accademia è troppo lungo prendere le abilità sempre le solide cose non vorrei dilungarmi tantissimo ma vorrei rispiegare per l'ennesima volta il nostro principio giusto per far capire a chi perché poi tanti giocatori gli hanno spiegato bene anche qualcuno gli ha anche detto guarda che forse hai sbagliato il gioco cioè non è non è un problema cioè se tu stai giocarisico e vuoi comprare tre case o mettere in albergo hai sbagliato il gioco si chiama monopoli quello e sono gusti rispieghiamo tranquillamente la nostra filosofia la nostra filosofia è un low power le abilità devono essere poche in gioco centellinate soprattutto quelle che ha insegnamento che hanno una che entrano nel gioco quelle dinamiche che possono influenzare fortemente il combattimento alcuni momenti del gioco ne vogliamo poche ragazzi potete parlarne all'infinito fate prima andate a giocare dove ve le tirano appresso appena entrate perché tanto noi non lo faremo mai è semplice perché non vogliamo quel gioco perché non vogliamo quel gioco perché siamo cattivi perché ci siamo impuntati no ve lo spiego perché ripeto spero che persone diverse sentano magari le live e capiscono ve lo spiego come l'ho spiegata ad alcune persone in fiera che mi sembra che alla fine abbiano capito il principio il principio qual è che se noi diamo faccio sempre una facile abilità se noi diamo a tutti quelli che la chiedono crash scudo l'evento dopo le linee di scudi durerebbero due secondi boom 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 tutti gli scudi rotti e ovviamente avremmo tutta una serie di persone che si vengano a lamentare e che vogliono avere il suo scudo anti crash a quel punto noi dovremmo dare a loro lo scudo anti crash perché se no il gioco sarebbe squilibrato ma se diamo a loro lo scudo anti crash quelli che prima distruggevano tutto subito ritornano a lamentarsi e quindi viviamo il crash scudo powerizzato ci fa schifo ci fa schifo noi vogliamo che durante la campagna si sentano poche chiamate quelle poche devono essere i più i più meritevoli i più vecchi quelli che sono riusciti a crearsi un oggetto ragazzi ci sono tantissimi modi per creare qualcosa che vi fa arrivare a uno scopo magari non perenne magari per due eventi per tre eventi per un evento solo ma ci sono ed è qualcosa che vi fa giocare non vi nego che alcune persone non non su facebook ma personalmente mi hanno anche detto ma perché alcune cose non le mettete con una dinamica più facile cioè perché non fate come altre realtà anche in realtà come la Dragon Fest che io quando arrivo posso da 50 euro e mi compro una saccocciata di monete così posso giocare di più è vero è un modo di affrontare l'evento e a noi non ci piace non vogliamo che niente all'interno dell'evento come abilità come oggettista e cose sia legato ai soldi fuori dell'evento ho fatto l'esempio delle monete ma potrei fare pure esempio su abilità proposte indecenti il principio è che non ci interessa perché proprio non vogliamo i superman all'interno dell'evento e vi dico un'altra cosa bellissima che si può giocare a Villegis per anni anche senza mai andare in accademia e senza prendere nessuna abilità il vostro divertimento non cambierebbe il mio in Germania non è cambiato per otto anni tutti gli eventi mai andato nelle loro accademie per prendere l'abilità anche quando me l'hanno offerta è divertente lo stesso non mi serve se le dinamiche di gioco sono fatte per un gioco low power non mi serve l'abilità più forte quindi per i varie persone che vedono l'accademia come l'unica missione del gioco avete sbagliato il gioco cioè l'accademia è un posto dove andare per giocare non perché devi prendere l'abilità se vai là perché sei fissato con l'abilità forte fate due domande hai sbagliato il gioco ci sono alternative molto più comode veramente dove al primo evento il primo giorno la sera c'è già l'arma puberfica le voglio bene lo stesso ci salutiamo nelle fiere però se cercate quello non lo dovete cercare da noi perché non lo vogliamo perché voglio che quando il new player entra e becca la persona che gioca da due tre quattro cinque sei dieci anni anche qui non si deve sentire un niente perché quello con una mano con un crash a scudo con l'altra tirano fulmine dal culo e intanto si cura non ci piace ci piace il new player che sei bravo e va alle spalle di quello fighissimo o ci vado avanti perché è forte se la deve giocare e oggi è così a Villegis è proprio così questo ve lo dico perché ho le testimonianze di persone che si avvicinano scusa mi sono dilungato no 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 ti sei dilungato io come sai sono stato oltremmeno parte in causa molto lungamente quindi non mi esprimo posso solo dire che quasi tutto quello che ho letto era inesatto da parte di chi si lamentava mentre le risposte di chi controbatteva le ho trovate tutte molto precise a mio personale avviso c'era una chiara differenza tra chi in accademia c'è mai stato e chi no e questo secondo me assolutamente rende rende molto rende molto difficile avere un'opinione sensata su qualcosa che non conosci è quasi impossibile per avere un'opinione sensata la devi conoscere molto bene quella cosa se no sono idee oppure se ti aspetti se tu ti avvicini con un pensiero totalmente diverso da quello che è la realtà ah certo certo io faccio sempre esempi popolani se stasera mi va la pizza e vado nel miglior ristorante dei pesci della città io rimarrò scontento è ovvio eppure sono il miglior ristorante dei pesci ma io volevo la pizza ma se la pizza non c'è non c'è quindi un determinato tipo di gioco all'interno del nostro evento non c'è le abilità sono la ciliegina la cosa in più ripeto potete fare in tanti modi poi comunque se siete venuti in un ristorante di pesce provate il pesce prima di dire che fa magari ti piace che ne so magari lo provi il pesce e vedi se ti piace in questo evento per esempio da Nilo abbiamo anche spinto un po' sul crafting abbiamo dato un sacco di cose abbiamo dato un sacco di agevolazioni a chi aveva voglia di fare e effettivamente sono state create tante più cose di questo sono molto molto contento perché comunque a noi ci piace quando il giocatore riesce ad arrivare a un qualcosa che vuole giocando e e quindi producendo e interagendo con altre persone creando gioco e se la domanda è cosa cambia tra mi faccio una spada true o mi danno true in accademia ve lo spiego che la spada true spesso ha una scadenza limitata nel tempo la spada true ha fatto giocare N persone per crearla la spada true è in gioco quindi io di un altro campo te la posso rubare e crea altro gioco la differenza tra un'abilità una persona e un oggetto è enorme assolutamente quindi sicuramente noi siamo molto più contenti se le create le cose che vi piacciono perché state creando gioco per tutti e anche per voi stessi boh quando mio figlio ha creato il suo ha dato una mano a martellare per il suo scudo anti-cresh era contentissimo e come lui tante altre persone non bambini perché c'è più gusto usare qualcosa che il campo ha fatto per te magari te lo passi da una persona all'altra vai a fare una battaglia difficile allora il campione si porta lo scudo figo è un elemento che aiuta il gioco sì visto che abbiamo più o meno esaurito la questione perché pensiamo penso che Andrea abbia espresso al meglio quello che è l'idea la logica che muove certe scelte di gioco e di impostazione del gioco strutturale di come vuole essere strutturato il gioco a Villegis io vi dico che se volete venire a settembre e magari non pagare il biglietto la regia ci fa partire subito il nostro giveaway e la parola d'ordine è punto esclamativo giveaway giusto per fare le cose estremamente originali chi se lo sarebbe mai aspettato è stato veloci questo manco è finito di giveaway già l'aveva scritto perché siccome c'è anche la grafica in sovraimpressione che la regia è di un certo livello e ci mette pure la grafica in sovraimpressione si definisce didascalica talvolta la nostra regia ma giveaway punto esclamativo giveaway partecipate questo giveaway ce lo teniamo aperto fino a chiusura quindi dovete rimanere col fiato sospeso fino a poco prima che chiudiamo la live oggi per sapere se avete vinto oppure no che dice Andrea è un bel gancio mentre partivano tutti questi chiamati io mi stavo leggendo un po' i commenti di Xenon 691 sì che è molto pertinente in linea con quello che stavamo dicendo ero curioso perché poi mentre parlo purtroppo non sono così multitasking posso parlare con dieci persone ma parlare leggere i commenti guardare poi con esagerare non esageriamo non esageriamo nel frattempo non è cactus mi raccomando non seguite quel pazzo di Stefano che che lancia questi troll in giro e Andrea secondo me lasciavo aperto il giveaway per un po' secondo me è arrivato il momento in cui tu ti possa sfogare con un io vorrei fare un conglomerato di due cose i tuoi aneddoti e l'argomento miti e leggende perché secondo me li possiamo sposare insieme questi miti e leggende con degli aneddoti specifici o qualche aneddoto che dici io chiederò scusa che questa sera gli aneddoti saranno di vario genere sia in gioco che fuori gioco perché sono legati anche a un altro argomento importantissimo che volevo toccare cioè approvvigionamento d'acqua anche se tornando a quello che aveva detto Drago prima qualcuno potrebbe non notare alcune cose noi di evento in evento stiamo aumentando costantemente le nostre riserve d'acqua messe in gioco purtroppo però abbiamo estreme difficoltà perché l'uso dell'acqua spesso e volentieri è imbarazzantemente sbagliato cioè tutte queste persone non hanno mai fatto a scuola come hanno fatto i miei figli un corso sull'ecologia tipo mentre te la videnti chiudi l'acqua a casa in teoria dovrebbe essere ancora più forte mentre te la videnti chiudi l'acqua di una cisterna che non è infinita potrebbe essere logico no Dani? si direi almeno a casa lo faccio calcola che mi sono trovato casualmente in un bagno e sento che si apre l'acqua faccio tutto quello che devo fare e l'acqua continuava a scorrere esco mi vado a lavare le mani e nella mia mente c'erano delle scene raccrapiccianti tipo pezzi di cervello che venivano schizzati fuori dalla testa mentre la sbattevo contro il muro per 780 volte è solo un'immaginazione fervida di Andrea non vi lasciate invece mi sono lavato le mani e senza dire nulla in silenzio ho spento ho chiuso il rubinetto di colui che stava lavandosi i denti e pettinandosi con il rubinetto aperto raga non possiamo vincere così è una battaglia che è impossibile da vincere faccio un altro esempio importante se noi carichiamo le cisterne e dieci minuti dopo i gruppi vanno a caricare dieci tanniche da 25 litri raga non ce la possiamo fare le cisterne non sono fatte per mandare avanti la cucina del vostro gruppo anche qui noi abbiamo fatto delle scelte tempo fa che sono totalmente diverse da altre realtà la nostra scelta è che potete cucinarvi come vi pare l'importante avere alcuni accorgimenti e di base salvo piccoli incidenti capitati e risolti immediatamente dalla prontezza delle persone stesse che avevano ciò che serviva siete bravi ma non è possibile che noi mettiamo l'acqua per mandare avanti le cucine presenti in tutti i campi non ce la possiamo fare è impossibile quindi ve lo dico prima a settembre ci sarà l'acqua per tutti ma non per le cucine e voi dite io vado di notte a riempire le cisterne ma io non ti metto la cisterna comoda per riempire la tua tannica quindi creerò difficoltà per fare questa cosa che per noi è impossibile da gestire perché ovviamente non vogliamo arrivare alle scelte che fanno altri eventi dove vietano assolutamente di cucinare ma no a noi non ci piace a noi ci piace quando fate le tavolate nei campi abbiamo visto tavolate e cene imbandite bellissime cioè è una parte del gioco che noi amiamo e quindi non vogliamo vietarlo ma non possiamo neanche reggere il passo di tutte queste cose è impossibile quindi preparatevi ma lo diremo anche altre volte lo dirò in altre live lo dirò prima lo scriverò sulla guida evento e poi io faccio una domanda ma io quando vado a fare gli eventi per non sapere leggere e scrivere io per me mi porto una cassa d'acqua liscia da due litri e di solito per il mio fa bisogno sempre per non dare fastidio per non ok sarò sbagliato io eh per non anche perché faccio un esempio nel 2019 siamo andati al Conquest 12.000 persone c'erano anche dei giocatori che possono testimoniare e noi eravamo nel in un campo in un campo eravamo circa 1200 persone in quel campo si sta ok di 12.000 noi eravamo 1200 persone su google earth se volete la prossima volta vi faccio vedere noi eravamo a circa 750 metri dalla città e dai bagni belli dalle docce belle eh dal piccolo market insomma dalla cittadina in gioco 750 metri per chi non sa contare 750 metri è praticamente tutto il campo di Villegis per lunghezza la parte più lunga sono 820 metri i nostri quindi di poca differenza noi a fianco al nostro campo 1200 persone avevamo ti potrei dire 4 o 5 sebbac e una tanica da 1000 litri una tanica da 1000 litri e vi dico la verità che io l'acqua non l'ho mai presa lì alla tanica perché come come l'ho detto me l'ha sopportata ma non ho visto neanche la fila di gente che andava a riempire tanica e là questo perché era una tanica sicuramente loro la mettono per emergenza non lo so non ho chiesto agli organizzatori anche se mi è ballinata l'idea di chiedere ma come fate voi a far così questo per farvi capire che noi stiamo continuando aumentare le cose di qua di là però dovete aiutarci perché l'uso indiscriminato dell'acqua porta poi a un momento in cui l'acqua non arriva a tutti e non ce la facciamo non c'è ma zinga che ce la porta via aerea e quindi dovete aiutarci nell'uso dell'acqua per i miei delle leggende prima di passare i miei delle leggende ragazzi il giveaway siete 100 online siete 100 in chat abbiamo 58 partecipanti che dobbiamo fare? punto esclamativo giveaway buscatevi forse già l'hanno comprato tutti ora guardate che se l'avete già comprato questo potete tenere quello che avete prontato potete cederlo a qualche amico quindi partecipate partecipate a meno che non siate tipo un guardiano di villages ad esempio però però devo dire la verità da dino che anche se qui sono un po' lenti ora in realtà sono stati velocissimi nell'iscrizione delle prime fasce mi è sembrato di capire che c'è stato una certa abbiamo avuto un'iscrizione nelle prime fasce sicuramente il prezzo vantaggioso ha ispirato però più del solito o magari l'evento che è andato molto bene che ha messo la voglia di rigiocare a settembre comunque sono contentissimo che nelle prime fasce abbia avuto una valanga di iscrizioni anche all'Udica sono venuti mi ha fatto piacere perché ci siamo fatti quattro chiacchiere e cose varie qualcuno è andato a provare anche il piccolo dungeon che avevamo all'Udica oltretutto Danilo bellissimo bellissimo cioè Viterbo ha tutta Viterbo sotterranea che è scavata e sono proprio delle grotte tipo scavate dai nani quindi bellissimo noi abbiamo la fortuna di averne un pezzetto bellissimo anche con le nicchie fatte sempre scavate e dove facciamo questo piccolo dungeon per i novizi e poi qualcuno che è passato a trovarci ha anche fatto un giretto io volevo ringraziare ufficialmente anche Andrea Beatrice e Alexander che sono stati con noi tutti e quattro giorni e sono stati spettacolari spettacolari Giulio Elena Camilla mi ha fatto tanto piacere avere questi nostri giocatori con noi a darci una mano e a fare a far giocare le persone a far divertire le persone Andrea l'ultimo giorno mi ha detto una frase bellissima mi ha detto quando Andrea facevano dei turni per prendere un po' d'aria perché comunque stavano sotto lui mi ha detto quando Andrea io non sono mai uscito perché mi divertivo troppo a far divertire le persone che entravano che bello se fosse questo spirito sempre sarebbe spettacolare anche se ripeto in questo settembre per quanto riguarda il gioco siamo stati contentissimi questo giugno questo giugno questo giugno scusate ah il punto anzianità ragazzi vedi poi mi ha detto punto anzianità sì sì c'è anche un'altra domanda che poi di sottoporrò sì grazie perché non abbiamo ancora assegnato il punto anzianità che non vi registrate perché ma le volete registrare queste cazzo le schede è così difficile l'evento è finito un mese fa un mese fa ancora c'è una marea di gente che non ha registrato la propria scheda no sempre perché poi snaga no così è troppo cattivo oh ma è un mese che dovete registrare la scheda stiamo aspettando perché perché una volta che assegniamo è finita il punto l'avete perso è chiaro Danì? sì sì l'avete perso perché non andrò a cercare uno per uno le persone che non hanno speso due minuti in un mese a fare la scheda quindi era sette io ho detto di posticiparlo qualche giorno perché stasera volevo dirvi questa frase oh registrate queste schede scusate ma è giusto ci chiedono anche perché poi scusami perché poi ci becchiamo anche le cazziate di quelli che l'hanno fatta precisa in tempo all'evento che dicono ma che è successo perché non ci abbiamo ancora il punto e c'è ragione io lo volevo una settimana dopo l'evento ma impossibile perché mancavano troppe schede all'appello il fatto delle schede ora ha fatto sì che noi prendessimo coscienza di una marea di cose questo è una cosa positiva anche se non sembra non perché possiamo solo controllare di più che è positivo ma possiamo anche fare più valutazioni più statistiche è molto comodo sarà una cosa che aiuterà il gioco tantissimo però fate se schede ci chiedono valuterete mai altre date per gli eventi visto lo slittamento stagionale sarebbe bellissimo farle in periodi meno caldi allora 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 questa è un'altra delle domandone che mi fanno tutti in alcuni casi quando una persona che me l'ha fatta me l'ha fatta in maniera un po' più arrogante e io invece di spiegargli prima prima mi sono fatto spiegare e gli ho fatto tutte le domande che poteva fare un un giocatore tipo alla fine è arrivato raga purtroppo noi siamo ci piacerebbe fare come ci pare sempre tutto l'anno ovunque ma siamo vincolati da alcune cose ve le spiego perché abbiamo spostato a giugno per due motivi fondamentali il primo è il taglio dell'erba ma il secondo più importante che purtroppo nel periodo di maggio in quella zona c'è una fortissima possibilità di tempeste ma dico tempesta proprio perché tempesta no pioggia tempesta cioè per farvi capire un maggio abbiamo ritrovato un gate un gate a 60 metri ok vola tipo mongolfiera perché purtroppo a maggio in quella zona ci sono dei cambi meteorologici molto molto forti quindi e quello che noi abbiamo visto negli anni è che il caldo ovviamente fiacca il gioco nelle ore calde si sta in tenda non si può girare non si può combattere ma continui cioè non hai dei grossi impedimenti se qualcuno si ricorda che l'abbiamo beccate grossi giorni di pioggia raga la pioggia vi fa scappare letteralmente paura della pioggia c'è stato settembre scorso che dicevano che domenica avrebbe piovuto il sabato sera 500 persone sono andate via dall'evento e ha fatto brutto sabato notte e non domenica mattina però per farvi capire siete scappati quindi il nostro pensiero qual è è brutto il caldo sì raga è brutto lo so ne sono consapevole ma la pioggia di più la pioggia è peggio è peggio perché purtroppo non siamo pronti non siamo abituati proprio come come tipo di eh di paese a vivere sotto la pioggia e quindi figuriamoci a campeggiare e giocare sotto la pioggia questo è il motivo per cui a settembre anche a settembre ci sono due motivazioni uno perché a ottobre qualcuno si ricorda Echi di Fango purtroppo potremmo beccare del del nubi fragi e due perché cerchiamo di fare l'evento l'ultimo weekend prima dell'inizio della caccia perché in Italia la caccia ha delle regole molto particolari che mi sono dovuto far spiegare da chi di dovere quindi da chi ha una riserva di caccia di chi ha di chi fa questo per il lavoro e purtroppo in Italia io non posso impedire durante il periodo della caccia a una persona in una riserva di caccia tutta quella zona enorme 600 ettari sono tutti un'enorme riserva di caccia anche non gli posso impedire di entrare gli posso impedire di andare dove stiamo noi a sparare certo però girerebbero intorno e io ho paura e quindi è successo nel successo che abbiamo fatti eventi durante il periodo di caccia ogni volta che sentivo in lontananza lontananza è qualcosa a sparare comunque un pensiero ce l'avevo un tremito ce l'avevo anche perché a volte facendo voi cose strane non so magari quella sera dove hai pensato di andare a fare il tuo bisognino perché Sebac non ti piaceva magari ti piace farlo bucolico e poi vieni impallinato questo ve lo dico perché piccoli aneddoti io sono andato a recuperare persone con le macchine con la macchina in posti assurdi durante l'evento quindi sono sempre pronto a situazioni particolari Andrea vuole aggiungere qualcos'altro su miti e leggende? Guarda legato all'acqua due cose anzi due una cosa che mi ha un po' alterato il primo giorno giovedì quando sono tornato a vedere che le macchine erano state spostate e a ringraziare le persone che avevano spostate l'acqua qualcuno mi ha chiesto vabbè ma voi la rimettete l'acqua? Dottorea scusami di chi stai a parlare? no perché ieri hai detto che toglievi l'acqua dottorea se pensate un secondo capite che io non posso levare l'acqua non è che mi svuoto una cisterna a tre metri d'altezza quindi quello che vi ho detto è che ho difficoltà a riempirle nei prossimi giorni saranno anche gli animali quindi era uscito questo mito che io avevo chiuso l'acqua e ogni volta che domandavo ma avete visto se c'è l'acqua siete andati all'acqua? no e la mia cofianca dice quando io sono andato l'acqua c'era infatti ma posso chiudere l'acqua? le posso minacciare le posso minacciare che vattacco la macchina e ve la trascino per tutto il campo però prima di dire cazzate del genere andate a vedere ok? questa è una dei i miti e le leggende valdacci gestapo che vi lascia sensate l'altra l'altra miti e le leggende che a un certo punto durante una battaglia è arrivata una persona che ha detto no correte correte ci sono i ladri nelle tende l'ha descritta come una banda di ladri che stava svuotando tenda per tenda fuori gioco ragazzi se fosse successa una cosa del genere me lo ricorderei perché perché ogni evento decine di persone vengono da me a dirmi mi è sparito una cosa nella tenda fuori gioco e la mia risposta è hai controllato bene hai visto nelle borse hai guardato nella borsa di quello che stava in macchina con te e puntualmente perché mi piace durante i prossimi giorni poi gli dovete richiedere oh ma l'hai trovato il portafoglio l'hai trovato il cellulare raga a me non è mai successo che mi hanno risposto e andrei non ho più trovato non ho più ho cercato qualcuno pensate mi ha scritto dopo un evento perché è stato così carino e dimmi guarda andrei scusami l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato l'ho trovato quando ho disfatto la borsa l'ho trovato in un pantalone che ho tolto il primo giorno e non l'ho più rimesso quindi prima di amare di raccontare storia raga per favore dite soltanto quello che succede a voi consapevole che poi vi chiederò anche spiegazioni chiederò cosa è successo perché cosa hai visto cosa hai fatto e quando mi dite no l'amico mio è finita la discussione l'amico mio senza nome per me è nulla ci vuole sempre un nome sono troppo cattivo a chiedere il nome ma io non ho paura di essere testimone o dire sì ho detto io sta cosa e poi ti dico anche cazzate dopo le riunioni Danilo poi mi riprova sempre ma ho detto quella parolaccia ho detto quella cosa quindi è normale però non ve nascondete se avete un problema venite e me lo dite e poi cerchiamo di risolverlo dunque c'è un'altra cosa c'è l'altra per esempio un'altra cosa che riguardante la notte non so che ne abbiamo parlato all'inizio ragazzi però voi siete 105 e mi ripeto la notte ci piace molto che durante le ore anche diurne ma notturne vi state un po' rimuovendo di più qualche furtarello a chi cammina qualche assatto alla diligenza qualche furto dentro le tende entrate nei campi con l'abilità dentro però troppo spesso queste cose generano polemiche da chi le subisce ora cercheremo di non voglio parlarne ora perché sarebbe troppo lungo e già ovviamente siamo a un'ora e quaranta sì sì siamo uno spoiler per una futura live sicuramente vi daremo più dettagli su come sistemare le cose all'interno delle tende in gioco e fuori gioco per evitare di avere problemi sicuramente che l'ho visto io di mattina mettere i soldi di gioco e i cartellini nello scrigno insieme al portafoglio non è una cosa intelligente no non è intelligente un'altra cosa scusa Danilo perché poi vai mi dirà l'altro un altro problema che abbiamo letto online e di cui siamo molto rammaricati e ringrazio chi ha fatto chi non si è nascosto e ha evidenziato questa cosa che all'interno dei campi ormai si vedono troppe 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 gazebbi bruttissimi ragazzi le regole non sono mai cambiate se leggete il dettaglio sulle tende in game è rimasto invariato da 10 anni mea culpa siamo stati più buoni siamo stati più tolleranti quando mi ho mandato un messaggio privato dicendomi ma va bene questo gazebo e io vi dico ragazzi va bene solo se è totalmente allestito mascherato poi mi è arrivato in gioco con delle storie fantastiche nonna mi doveva cucire le tende ma c'ha l'artrosi la macchinetta di cucire me l'ha rubata mia zia perfetto ragazzi purtroppo anche qui come altre cose ci siamo resi conto che il nostro buon cuore è andato a discapito del gioco e dell'estetica e non va bene perché ovviamente chi si porta la tenda medievale o chi ha investito per allestire un gazebo bene a me me l'hanno detto e mi hanno detto proprio Andrea a me merode che io mi sono fatto un culo così a fare sta cosa e al fianco a me ho il tendone bianco con le finestre bianche e le plastiche quindi da settembre incomincieremo il primo giro di vite cosa significa che va bene se hai un gazebo e il tetto impermeabile lo lasci bianco ma le pareti non devono essere bianche di plastica devono essere di stoffa colorata e lo scriveremo non lo scriviamo una settimana prima ve lo ridico ve lo riscrivo lo scriverò sui gruppi perché se vi presentate con gazebo bianco andrete alla fine del campo a fare la linea fra in e out in fondo meno possibile alla vista in linea di massima comunque l'idea è che nella zona della killing zone ci vanno le tende storiche non gazebo le tende storiche o tende belle perché in realtà da rinno ci sono persone che hanno preso il gazebo l'hanno usato come struttura e ci hanno montato sopra una tenda storica però quelli veramente si fanno un culo così hanno montato tutti i teni ogni volta stanno là tre ore perché quello a fianco della vega zebo ha montato tutto a bianco ragazzi giro di vite non sarà più così quindi gli orchi di valeria sì ma sono diversi che hanno allestito bene spulle queste cose più il camminatore che non so chi è vi dice anche latte di birra cellulari certo faremo piano piano continueremo ok a ritornare un po' a delle vecchie abitudini perché è veramente brutto che entri in un campo con la tenda storica e sopra il tavolo ci sono bottiglie lattine uno schifo quello che vi consiglio è una bella coperta sopra il tavolo che arriva a terra e le bottiglie sotto non è che vi dico dovete portare per forza la caraffa ma la bottiglia d'acqua di plastica o la lattina non la voglio vedere ovviamente anche noi sappiamo quello che per esempio è andato malissimo quest'anno faccio un esempio ho fatto proprio una cazzata con le luci dei gate speravo che erano più decenti facevano proprio schifo a settembre saranno diverse ci ho provato volevo cercare di avere una soluzione meno invasiva più sicura però non mi piaceva e quindi a settembre ricambieremo Andrea perché prima che poi io lo so non continuiamo ultima domanda perché è stata fatta un paio di volte ci sono notizie sulla rocca ci chiedono o al momento siamo ancora in attesa siamo ancora in attesa i lavori stanno procedendo siamo in Italia in Italia luglio agosto lavori li vedo proprio improbabile noi cercheremo ovviamente di programmarla più in là non di farla un mese all'evento perché l'anno scorso l'abbiamo fatta dei corsi perché io ci avevo detto che dovevo partire poi non sono partiti per problemi purtroppo anche lì ahimè la rocca non è nostra è di un comune che fa di tutto per farci fare gli eventi purtroppo anche lui a volte è soggetto a ritardi burocratici non dipesi da lui quindi non è colpa del comune del sindaco però la burocrazia italiana a volte è complicato basta che c'è mezza firma su una pagina e viene rigettato tutto e fa i due mesi di ritardo e quindi appena avremo novità ve le facciamo sapere quindi sarete i primi a sapere cosa succederà e quando succederà quando ci sarà la prossima rocca ovviamente parliamo naturalmente del castello di Graffignano ma direi che visto che sono passati 47 minuti è arrivato il momento di dare uno stop alle telefonate 63 soli iscritti è peccato ragazzi e scopriamo chi è il fortunato vincitore di questo ingresso a Age of Guardians di settembre vediamo un po' 63 iscritti su 100 persone io sta cosa non la capisco lo sai non riesco a leggere chi è il vincitore il vincitore è Getuma 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 ci sei? Appari fatti vedere l'hai vinto di nuovo fra l'altro complimenti sei un uomo una donna molto fortunato perché è il secondo che vinci secondo me sì non so se è dello stesso evento durante l'evento poi vieni di me che ti do una strusciatina alla gobba perché hai un bel po' di un bel po' di fortuna allo scorso evento va bene allora ci siamo va bene ecco lui è forte potete potete chiedere a Getuma andate da lui una benedizione una benedizione perché ha più culo che anima ha più culo che anima al solito contatto alla pagina siamo contenti sì esatto e così ce ne andiamo a giocare subito noi credo che abbiamo esaurito abbondantemente tutto quello che avevamo da dire vi invitiamo sempre se avete dubbi questioni domande e inviare delle mail ai nostri indirizzi mail l'ultima cosa perché sarà devi sbrigare mi sbrigo a Viterbo è venuto un ragazzo che mi ha chiesto senti ma posso dove posso mandare un feedback un commento una critica costruttiva guarda mandamela a me tanto mi trovi ci sono tutti i miei contatti e lui mi ha detto guarda che sarò spietato e ho fatto guarda a me mi piace sono i commenti spietati quindi ragazzi assolutamente non lesinate i vostri commenti a me fa più piacere di averli direttamente per instaurare un dialogo e non lanciati in una piazza per avere consensi di popolo però fate un po' come volete il tema nexus abbiamo parlato abbiamo parlato della progenia abbiamo parlato abbiamo chiesto a tutti di avere un occhio maggiormente di riguardo e visto che noi tante volte abbiamo chiuso un occhio su degli errori che avvengono dall'altro lato ci aspettiamo che ci sia lo stesso tipo di atteggiamento e però comunque anche quello è andato molto bene già ci abbiamo fatto dei piani malefici per rendervi le notti sempre più indaffarate e terrificanti mandate tutti i messaggi che volete per quello che riguarda questioni da discutere con Andrea tanto Andrea risponde a tutti non c'è problema quando Alice non mi non mi stacca la capoccia perché dice che in vacanza ho fatto una litigata da nì mostruosa perché mi hanno chiamato erano le otto e mezza stavamo a cena a Otranto questo mi chiama e mi chiedeva una cazzata e io ovviamente gli ho risposto e cose varie e poi ho detto guarda sì sto a cena dimmi ma visto che stiamo ti devo chiedere un'altra cosa e mi ha chiesto un atto e due tre quando ho attaccato mi sono beccato una cazziata epica epica perché purtroppo è un bruttissimo vizio che non mi toglierò mai che non riesco a distaccarmi mi piace avere il contatto mi piace rispondervi mi piace anche prendermi le parolacce ma diretto le voglio dirette le parolacce non per sentito dire quindi non vi preoccupate chiamatemi iscrivetevi e ci sentiamo ok ci saranno ovviamente poi anche in futuro delle maggiori chiarimenti su come funziona il punto nexus per le progenie risposta della rovina prossima live stiamo studiando le cose stiamo capendo se tutto va come se tutto procede come ci piace e per ora le cose vanno bene a quel punto potremmo fare ancora li state ammucchiando dai così poi potete fare cose più fighe esatto però sicuramente se vi stiamo stiamo segnando questa cosa è perché vogliamo farci qualche cosa detto questo ragazzi grazie mille per essere stati con noi è stata una serata lunghissima quasi due ore è un controllo minuti non staccate non staccate perché andiamo andiamo a trovare andiamo a trovare Manfredi Marcus Krohn amico ormai residente stabile del Vello d'Oro quindi rimanete con noi per fare questo saluto a Manfredi grazie per essere stati con noi ci vediamo alla prossima ci vediamo prestissimo in un evento o in qualche fiera